34 i provvedimenti, alcuni notificati in carcere, seguiti dalla polizia per smantellare il clan di Adrano dei Sant'Angelo Taccuni, tra i destinatari anche Gianni Sant'Angelo, già detenuto e ritenuto il capo della cosca vicina a Santa Paola Ercolano. Tutti sono indagati per associazione mafiosa, traffico di droga, reati contro il patrimonio. Un'egemonia sprezzante, quella esercitata sul territorio, manifestata persino con la condanna a morte di un pentito, Valerio Rusano, figlio di un esponente mafioso locale e ripudiato dalla famiglia, divulgata in paese con l'affissione dei necrologi in cui era indicato persino il luogo del funerale, la sede del commissariato di Adrano. L'operazione si chiama Adrano Libera, proprio come risposta e segnale, diciamo sì, che Adrano certamente non soccombe a queste leggi, ma anzi... Le indagini avviate all'epoca dei fatti nel 2017, coordinate dalla DDA della Procura di Catania, si sono avvalse anche delle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, nelle intercettazioni registrate, comunicazioni sul giro di estorsioni e sull'approvvigionamento di droga. È emersa quest'asse con le province di Varese e Como e conforme di approvvigionamento che vengono dalle rotte calabrese o campane. Nell'ambito dell'operazione Adrano Libera è emessa pure una misura di prevenzione patrimoniale di beni riconducibili alla moglie di Sant'Angelo.